abbiamo quindi abbiamo fatto il primo passaggio il primo passaggio è il dimensionamento della trave vale a dire abbiamo una struttura soggetta a un certo tipo di carico questa struttura delle dimensioni di una certa entità quindi questo ci permette di determinare il valore delle azioni esterne quindi momento flettente sforzo normale sollecitazione di taglio e così via abbiamo determinato quindi il valore del momento flettente il valore della forza di taglio a cui sono soggette le varie parti della nostra struttura partendo dal tetto dalle travi del tetto della pensilina travi che sono soggette a flessione più taglio mentre la colonna è soggetta sforzo normale compressione e momento flettente sulla base di questo abbiamo cominciato un ragionamento che ha preso in esame i vari materiali disponibili è stata fatta la scelta di un acciaio scelta ovviamente a diciamo discrezione del progettista che valuta le condizioni operative e di questo acciaio è stato quindi una volta note le caratteristiche del materiale è stato stabilito un grado di sicurezza è stata stabilita una tensione ammissibile con questa tensione ammissibile si è determinata la sezione o meglio il modulo di resistenza la flessione che la trave deve avere per poter sopportare la le sollecitazioni questo è di questo si chiama dimensionamento ma ricordiamo che la struttura non è soggetta pura flessione ma è soggetta per quanto riguarda la trave nel tetto la flessione più taglio per quanto riguarda la colonna è soggetta compressione e flessione quindi dobbiamo adesso verificare che andando a considerare tutte le sollecitazioni agenti la trave sia ancora in sicurezza quindi noi abbiamo bisogno quindi di fare la verifica quindi verifica dobbiamo verificare travi del tetto a flessione più taglio dobbiamo verificare la colonna a compressione più flessione ricordo che abbiamo deciso per ragioni tecniche pratiche costruttive di realizzare la trave del tetto e la colonna con lo stesso profilo procederemo quindi alla verifica di questi profili secondo le sollecitazioni che abbiamo indicato va da sé che nel caso non fossero in grado di sopportare di resistere alle sollecitazioni a cui sono soggetti quindi dovremo necessariamente modificare la sezione il tipo di profilo, le sue dimensioni, la sua sezione e quindi il suo modulo di resistenza e quindi cambierà anche il peso quindi procediamo alla verifica a flessione più taglio della trave del tetto allora abbiamo detto che la trave la sezione della nostra trave è soggetta a un colato qui un momento flettente a sinistra del nodo di 45.000 newton metro e una azione tagliante dei 30.000 newton noi abbiamo queste azioni quindi abbiamo momento flettente 45.000 newton metro e forza di taglio di 30.000 newton ora noi dobbiamo combinare queste due azioni perché queste due azioni ci forniscono una sigma della flessione e una tau per il taglio ora noi abbiamo per quanto riguarda il momento flettente non c'è nessun problema noi abbiamo sappiamo che la trave è tipo h e 200 a w w x vale abbiamo detto 389 centimetri centimetri alla terza noto adesso noto adesso un particolare che potrebbe essere che merita una verifica vedo che per l'h e 200 b il momento il modulo di resistenza rispetto all'asse x è di 370 centimetri alla terza inferiore a quello dell'h e 200 a forse è il caso di fare una ulteriore verifica prendendo un manuale un altro manuale quindi profili aste ecco qua dunque no caratteristiche geometriche profili eccolo qui ricordavo bene allora prendiamo il manuale dell'ingegnere meccanico e verifichiamo che non ci sia un errore infatti c'è un errore di stampa nel manuale di meccanica perlomeno nella vecchia edizione il dato per l'h e 200 a è corretto il dato per l'h e 200 b non è 370 ma 570 centimetri alla terza quindi si raccomanda un po di attenzione perché un errore può essere sempre in agguato un errore anche non dipendente dalla nostra un errore di stampa allora abbiamo il modulo di resistenza di 389 centimetri alla terza che sono 389 mila millimetri alla terza quindi noi abbiamo che la sotto la sollecitazione di flessione la sigma vale mf wf sono 45.000 per mille diviso 389 mila uguale 115,7 diciamo 116 megapascali arrotondando all'intero superiore questa è la sigma di flessione per quanto riguarda il taglio per quanto riguarda la sollecitazione di taglio se noi andiamo a considerare prima di questa se noi andiamo a considerare dovessimo meglio andare a considerare l'andamento delle tensioni all'interno della sezione troveremmo che il valore della sollecitazione di taglio è quasi nullo sulle ali ed è diciamo massimo sull'anima quindi in realtà la nostra sollecitazione di taglio ci troveremmo appunto a doverla considerare come massima in un punto in cui il momento la sollecitazione di flessione è minima perciò perciò possiamo intanto valutare il valore medio della tensione tau se noi prendiamo la forza di taglio divisa per l'area della trave troviamo il valore della della tau allora la forza di taglio di 30.000 newton l'area già che andiamo a prendere il manuale di meccanica quindi h e eccola qui 200 a l'area è di centimetri quadrati 53,8 53.800 millimetri pardon 5380 millimetri quadrati 53,8 centimetri quadrati allora eccola qui per cento 10 per 10 cento da centimetri a millimetri 5380 ci risulta una tensione media di taglio di 30.000 diviso 5380 di 5,57 5,6 megapascal quindi vediamo che la sollecitazione di taglio è veramente modesta ora torniamo un attimo indietro cerchiamo di compiere un ulteriore ragionamento che è quello che compiono solitamente quello che si compie solitamente quando si fa la progettazione di questo tipo di strutture guardiamo questo diagramma che è significativo nelle sezioni a WT si considera l'anima del profilato come sezione resistente alle forze di taglio il valore massimo della tensione si esprime con la relazione approssimativa Tau max TY fratto B1 per H1 che cosa significa questo? significa che se prendiamo la nostra sezione prendiamo l'asse X noi abbiamo questa trave quindi immaginiamo che questa asta sia la trave quindi noi la vediamo in piedi ovviamente qui vediamo una striscia di lamiera ma questa sopporta una sollecitazione di flessione mettiamola in piedi meglio sopporta una sollecitazione di flessione lo sforzo di taglio conformemente a quanto è riportato nel manuale di meccanica viene assorbito solo dall'anima della trave viene assorbito solo da questa parte della trave quindi potremmo anche dire che è solo l'anima che lavora a taglio quindi possiamo fare una verifica un po' più accurata prendendo le dimensioni dell'anima cioè la Tau possiamo prendere Tau effettiva di taglio è data da sempre lo sforzo di taglio fratto la larghezza B per l'altezza H1 dell'anima allora noi abbiamo in realtà qui viene chiamata come A allora è meglio che lo scriviamo bene larghezza dell'anima per l'altezza H1 dell'anima allora la forza è sempre 30.000 N la larghezza dell'anima nell'HE200A è di 6,5 mm mentre le ali hanno uno spessore di 10 mm la trave è alta la trave è alta 190 mm 190-20 170 quindi 170 è meglio che riportiamo su un disegno la sezione lo riportiamo qui allora abbiamo detto che questa è la sezione della trave l'HE200A misura 200 mm di larghezza la larghezza B è 200 l'altezza è 190 mm lo spessore delle ali è di 10 mm lo spessore dell'anima è di 6,5 mm quindi ipotizzando che lo sforzo di taglio sia supportato solo dall'anima abbiamo questa situazione quindi 30.000 6,5 170 per sono 1100 mm quadrati diviso sono 27 virgola 15 27,2 megapascale quindi l'anima si trova a lavorare a questa a questo valore di tensione ancora due parole sulla consistenza sull'andamento delle tensioni all'interno della trave allora per quanto riguarda il taglio abbiamo detto che il taglio tensione media di taglio se noi assumiamo la forza di taglio e l'area della trave vale 5,6 megapascale la però nel caso delle sezioni a doppia t come questo come in questo caso la sollecitazione di taglio in realtà è concentrata è assorbita praticamente completamente dall'anima della trave il discorso ovviamente la dimostrazione di questo non è compito di questo problema non è appunto si rimanda allo studio della letteratura del libro di testo quindi se noi prendiamo in esame la solamente la sezione dell'anima l'area la sua area e ne determiniamo la sollecitazione di taglio abbiamo questo valore 27,2 megapascale per quanto riguarda la tensione di flessione abbiamo determinato 116 megapascale allora se noi qui accanto alla sezione tracciamo l'andamento delle tensioni troviamo che allora attenzione prendiamo anche le tensioni con il loro segno corretto la trave che stiamo esaminando sta a sinistra stando a sinistra la parte tesa è l'ala superiore questa essendo tensione di trazione dobbiamo stabilire un riferimento quindi stabiliamo che a destra sia il segno sia positivo a sinistra il segno sia negativo allora per quanto riguarda le sigma quindi questo è lo zero la sigma data dalla flessione ha questo andamento quindi è massima alla periferia della trave è massima quindi all'esterno e stradosso intradosso della trave è nulla sull'asse x quindi sull'asse di simmetria questa è nulla per quanto riguarda la tau l'andamento della tau è un po' più elaborato da tracciare diciamo che questi sono 116 e questi sono meno 116 megapascal per quanto riguarda la tau abbiamo detto che la tensione di taglio in realtà avrebbe un andamento che si può ricavare da questa diciamo che corrisponde a questo grafico noi abbiamo calcolato però la tensione media sull'anima ora la tensione media sull'anima quindi la tensione di taglio sull'anima vale 27 megapascal quindi circa un quarto 116 116 27 diviso sì un quarto meno di un quarto questo è l'andamento della tau 27 megapascal 116 megapascal questo è l'andamento della tau sulla sezione della trave quindi che cosa possiamo dire noi dobbiamo effettuare la verifica di questa sezione soggetta a tensione di flessione e tensione di taglio combinate quindi abbiamo determinato i valori delle sollecitazioni all'interno della nostra sezione però come possiamo vedere questo disegno l'andamento delle tensioni della sigma data dalla flessione e l'andamento della tau data dal taglio non sono costanti su tutta la sezione assumono hanno dei valori variabili variabili vediamo che lo sforzo di taglio in particolare è presente solo sull'anima è solo nella sezione nella parte della trave corrispondente con l'anima che abbiamo la tau abbiamo sollecitazione di taglio mentre la flessione è massima nel punto più lontano dall'asce neutro e andando verso il baricentro della sezione la tensione si annulla quindi noi abbiamo bisogno di combinare le due tensioni per poter verificare se la trave è in sicurezza per fare questo dobbiamo determinare il valore della tensione almeno in un altro punto cioè noi sappiamo che la sigma di flessione è zero nel baricentro è massima all'estremità alla distanza y massima dal baricentro della trave quindi all'esterno dell'ala superiore all'esterno dell'ala inferiore però abbiamo che la tau è presente solo fra il punto di giunzione dell'anima con l'ala superiore e il punto di giunzione dell'anima con l'ala inferiore quella la sezione che è qui evidenziata quindi dobbiamo trovare il valore della sigma in questo punto combinarlo con la tau mediante i criteri noti e verificare la sicurezza o meno della trave noi sappiamo che la tensione di flessione è momento flettente diviso momento di inerzia rispetto all'asse x in questo caso per la distanza y dal baricentro ora la distanza y di questo punto vale 85 mm la trave alta 190 l'ala ha 10 mm di spessore y sono 85 mm il momento di inerzia della trave lo possiamo leggere nelle tabelle del manuale vale 3692 cm alla quarta x sono 3692 cm alla quarta 10 alla quarta fa 10.000 moltiplichiamo per 10.000 questo valore e abbiamo il valore in centimetri in millimetri alla quarta quindi sono 36 920 0 0 0 millimetri alla quarta quindi la tensione sigma vale momento flettente 45.000 per 1000 diviso 36 920 0 0 0 per 85 quindi facendo il calcolo abbiamo 45.000 1000 85 per poi 36 920 0 0 0 diviso sono 103,6 mega pascal quindi abbiamo che nel punto è meglio che gli diamo un nome lo chiamiamo qui possiamo chiamarlo a nel punto a noi abbiamo sigma che vale 103 mega pascal tau che abbiamo calcolato precedentemente 27 2 mega pascal con il criterio di von mises troviamo la sigma ideale la sigma ideale è sigma al quadrato più 3 tau al quadrato e vale 103 virgola 6 al quadrato più 3 per 27 virgola 2 al quadrato quindi questo valore elevato al quadrato 27 punto 2 al quadrato moltiplicato 3 più tutto sotto radice 113 virgola 8 mega pascal quindi la sigma nel punto a vale 113 virgola 8 mega pascal nel punto B che è l'estremo vale 116 mega pascal possiamo fare quindi la verifica e dire sigma ideale è questa sigma ammissibile abbiamo detto che avevamo stabilito in 122 mega pascal quindi sigma ideale minore di sigma ammissibile la verifica è soddisfatta nel punto a nel punto B la verifica è analoga perché nel punto B lo scriviamo qui abbiamo sigma 116 mega pascal sigma ammissibile 122 mega pascal abbiamo sigma minore di sigma ammissibile verifica soddisfatta quindi la trave è verificata perciò riepilogando rapidamente cosa abbiamo fatto abbiamo determinato le forze agenti e le dimensioni della pensilina quindi abbiamo determinato i valori del momento flettente sui vari elementi costituenti della pensilina e della forza di taglio poi abbiamo scelto un materiale sulla base del materiale e della sua tensione ammissibile dato un grado di sicurezza opportuno abbiamo determinato la sezione necessaria consultando un manuale tecnico abbiamo scelto una sezione idonea che abbia un modulo di resistenza adeguato a quanto richiesto e questo è il processo di dimensionamento ma siccome siamo in presenza di sollecitazioni composte abbiamo svolto la verifica a flessione e taglio la verifica a flessione e taglio ha portato a considerare quindi le caratteristiche della sezione determinare il valore della tensione di flessione effettiva sulla sezione considerata date le caratteristiche della trave il valore della tensione di taglio nella sezione considerata data la distribuzione degli sforzi di taglio all'interno di questo tipo di sezioni la verifica quindi è consistita nel combinare le due tensioni mediante il criterio di von misers eccolo qua e verificare che la tensione calcolata sia risulti sia ancora inferiore alla tensione ammissibile 122 megapascale ammissibile 113 8 116 la tensione effettiva quindi la trave è verificata perciò per quanto riguarda l'elemento del tetto soggetto al carico distribuito la struttura è verificata passiamo adesso alla verifica della colonna l'elemento Grazie.